allora ciao a tutti ragazzi buonasera dal lab sto improntando le misurazioni del burapp per fissarlo alla cassa da 22 14 contemporanea ludwig in antique white in antique white come sapete la fattura della cassa consiste nel pezzo principale sopra e il pezzettino sotto classico adesso sto facendo tutte le misure e poi domani si incolla poi si rifinisce il bordino eccetera eccetera ed è tutto per adesso qui per quanto riguarda invece i cerchi della cassa della batteria di 60 ludwig sono già finiti restaurati bene nei bordi ma solo installato il bra quando arriverà poi mi sono entrati questi due tom ludwig sempre contemporanei sempre contemporanei un po come la cassa un po come questa cassa anzi la stessa serie diciamo che hanno questo orange psichedelic che va bene va rimosso perché deve essere fatto in black oyster 70 perché il kit è in black oyster 70 per cui adesso si rimuoverà sta roba si farà settimana prossima 10 per 9 12 per 10 ok ragazzi si farà in black oyster 70 questo qua che è lo stesso che ho rimosso da questa per farlo in white pearl invece usiamo l'antique perché è più giallo già vi rispiego la stessa cosa questo è il white e questo è l'antique più giallo così si abbina un po di più al set diciamo un po ingiallito vero ragazzi poi se ho un po di tempo domani comincerò a infrontare il rollantino da 13 per 5 5 si rifà si fa il bordino si comincia a fare le tracciature fuori e si installa la roba per ora è tutto ragazzi dal lab ciao a tutti